Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Arrestato Cuoco Pesa rese sorpreso per la seconda volta con la coca in casa Stessa sorte per un pusher albanese di Fanno, trovata nella sua abitazione anche una pistola da guerra Dopo l'annuncio del sindaco a primo cittadino è stato riaperto il cancello laterale del cimitero urbano Si celebra il 6 marzo la giornata europea della logopedia Per la festa delle donne invece è previsto un convegno Una pedalata con omaggio a una partigiana fanese e a una vittima delle foibe Un cordiale benvenuto dalla redazione di Occhio alla Notizia In apertura alla cronaca La polizia ha arrestato due persone a Fanno e a Pesaro per spaccio di sostanze stupefacenti Uno di loro in casa aveva addirittura una pistola simiautomatica da guerra I dettagli dell'operazione sono stati forniti questa mattina durante una conferenza stampa in quest'ora Due arresti e il sequestro di una pistola di 400 grammi di cocaina Sono il bilancio di un'operazione condotta dalla polizia fra Fanno, Pesaro e Urbino Nel fanese gli agenti della squadra mobile e del commissariato hanno arrestato un albanese Che operava tra il parcheggio del cimitero cittadino e il pincio Già noto alle forze dell'ordine è stato pedinato Fino a che il 27 febbraio scorso dopo diversi appostamenti è scattato il blitz L'uomo ha cercato di fuggire prima in sella al suo scooter verso il canale Albani Poi una volta abbandonato il veicolo è scappato a piedi Ed ha cercato di disfarsi di un paio di involucri con 60 grammi di cocaina Poi recuperati ma gettandoli dietro una siepe E' stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento Nella sua abitazione sono stati rinvenuti circa 250 grammi di cocaina E una pistola semi-automatica calibro 9, Parabellum Da guerra, di fabbricazione croata con un caricatore inserito e 10 proiettili del medesimo calibro Il pusher, un 35enne residente nella zona periferica di Fano, è stato condotto in carcere E' una pistola clandestina proveniente dall'est Europa I cui accertamenti naturalmente adesso saranno svolti per verificare Oltre alla provenienza certa della pistola Anche per un eventuale utilizzo che ne è stato fatto sul territorio, soprattutto a Fanese A Pesaro invece il personale della questura e dei commissariati di Fano e Urbino Ha manettato per spaccio un cuoco del posto L'uomo di 38 anni, residente in Baia Flaminia Era già stato arrestato circa tre anni fa Questa volta i poliziotti lo hanno aspettato fuori dal suo appartamento in via Belgrado Perché nei giorni precedenti avevano notato lo strano via e vai di parecchi giovani Alcuni di loro già noti, quali assuntori di sostanze stupefacenti Sospettavano che quel pomeriggio il 38enne si fosse recato fuori città per rifornirsi di droga E non si sbagliavano, quando era entrato è stato sottoposto a perquisizione Addosso aveva una bussa contenente 52 grammi di cocaina e 250 euro in contanti Insomma, ritenuta essere il provento dello spaccio Le successive perquisizioni della vettura e dell'appartamento hanno consentito di recuperare Ulteriori 63 grammi di cocaina in parte, già suddivisi in dosi Un bilancino di precisione e una confezione di mannitolo Sostanza comunemente utilizzata per il taglio Per il pesarese stessa sorte Ieri l'autorità giudiziaria ha convalidato anche il suo arresto Disponendo quindi, in entrambi i casi, la custodia nel carcere di Villa Fastigi Per quanto riguarda gli assuntori di droga Invece sono quasi tutte persone giovani di età compresa tra i 20 e i 45 anni Le fasce di età oscillano, una fascia abbastanza giovanile Ed è proprio questo che ci ha attirato l'attenzione durante i pattuglioni Cioè avere la presenza e il movimento di tanta gente Poi dà un segnale per uno sviluppo investigativo successivo Sparò 11 colpi di pistola al suo rivale a due metri di distanza Ed ora è agli arresti domiciliari Si tratta di Giovanni Ciaschini, 71 anni di Fano Titolare di Knight Che il 12 dicembre scorso sparò contro il 38enne Simone Guazzolini di Sant'Angelo in Vado In quel momento Guazzolini si trovava in compagnia dell'ex compagna di Ciaschini A bordo di un'auto nel parcheggio di via Fanella Inizialmente l'uomo dopo gli spari fuggì ma poi andò a costituirsi pensando di aver ucciso il 38enne Ieri il GIP ha colto l'istanza dell'avvocato difensore Marcello Cecchini Concedendo a 71enne in carcere per tentato omicidio gli arresti domiciliari Non ha nessuna deroga, non può uscire di casa e se lo farà tornerà dietro le sbarre Secondo quanto è emerso oggi dalla stampa locale un grave atto di vandalismo sarebbe stato compiuto ai danni dei vigili urbani di Fano Nella notte tra sabato e domenica come riporta l'articolo sarebbero state ritrovate ben 5 auto con le gomme bucate Il comandante della polizia municipale Giorgio Fuligno ha specificato invece che le vetture parcheggiate in via Mura Malatestiane Sono dell'amministrazione comunale e ad ogni macchina è stato bucato un pneumatico Sono in corso degli accertamenti da parte dei vigili per cercare di individuare gli autori del gesto La polizia municipale di Pesaro invece da qualche giorno ha iniziato a utilizzare Targa System Un dispositivo dotato di telecamera che permette di verificare nell'immediato se i veicoli in transito sono coperti da assicurazione Sono regolarmente revisionati se sono inseriti nelle liste dei veicoli rubati o delle cosiddette black list di altri corpi di polizia locale Cioè se siano stati segnalati per aver commesso irregolarità nei territori di altri comuni che utilizzino lo stesso dispositivo Come annunciato nei nostri studi dal sindaco Massimo Seri, ieri è stato riaperto il cancello laterale del cimitero urbano I anziani si trovano costretti a fare tutto il giro del parcheggio per poter entrare E' una delle tante segnalazioni giunte in questi mesi alla nostra redazione Infatti molti lamentavano che il cancello laterale del cimitero centrale di Fano fosse sempre chiuso Creando di conseguenza non pochi problemi sia a chi ha un'età avanzata sia a persone con difficoltà motorie Poi come spiegato tempo fa dall'assessore competente Marina Barnesi il provvedimento si era reso necessario per contrastare furti continui Tra cui la sottrazione di oggetti sacri e diversi atti di vandalismo Poi venerdì scorso durante il programma di Fano TV Primo Cittadino il sindaco Massimo Seri aveva annunciato la buona notizia Da lunedì il cancello dovrebbe essere aperto e ho avuto oggi nulla osta dal dirigente del settore tecnico Che mi ha dato la garanzia della idoneità per l'apertura di quel cancello E lo dico con soddisfazione perché tante persone anche anziane che ho incontrato per la città Tutti mi chiedevano questa riapertura E così è stato perché da ieri il cancello è stato aperto Inoltre il primo cittadino sempre durante l'incontro in diretta tv Aveva comunicato la richiesta avvenuta di un preventivo per poter sistemare il cancello laterale del cimitero di Rosciano Un altro problema che provoca molti disagi ai cittadini Ma sul quale l'amministrazione sta lavorando per ripristinare la situazione quanto prima Ed ora il maltempo Da domani pomeriggio nelle Marche è in arrivo una saccatura di aria fredda artica marittima Che nelle 24 ore successive porterà piogge e nevicate oltre i 400 metri A partire dal centro nord La protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo Si prevedono venti di burrasca lungo la costa e mare molto agitato Probabili frane, smottamenti e l'esondazione di corsi d'acqua La criticità idrogeologica è moderata Torniamo a parlare delle primarie del centro-sinistra che si sono svolte domenica scorsa nelle Marche Vediamo dunque come si sono espressi gli elettori fanesi Il vincitore Luca Ceriscioli ha ottenuto 865 voti Pietro Marcolini 431 Mentre Ninel Donini dell'Italia dei Valori soltanto 9 In nessun seggio Marcolini ha battuto Ceriscioli Si è riscontrato un risultato paritario a San Lazzaro Dove i candidati del PD hanno ottenuto 100 voti ciascuno Un altro dato che emerge è che nel centro storico è stato registrato il più alto numero di persone Che si sono reccate alle urne con 246 votanti Mentre l'affluenza minore si è registrata a Fenile con 58 L'ex sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli ha ricevuto una telefonata dal presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi Il premier ha chiamato durante una pausa delle lezioni che Ceriscioli insegnante di matematica Tiene in un istituto a Urbino e si è complimentato per la vittoria E come ogni anno il 6 marzo verrà celebrata la giornata europea della logopedia Vediamo È un'occasione per promuovere la miglior qualità di vita possibile Incrementando la piena partecipazione dell'individuo alle proprie attività di vita quotidiana E cercando di ristabilire nel paziente la massima autonomia Per questo il 6 marzo i logopedisti celebrano la giornata europea Promossa dal Comitato Europeo Permanente dei Logopedisti E organizzato in Italia dalla Federazione Logopedisti Italiani In collaborazione con le sezioni regionali Quest'anno l'argomento in primo piano è il disturbo comunicativo nelle celebro lesioni acquisite E cioè un disturbo che può riguardare la comunicazione, il linguaggio, la memoria o il comportamento E si manifesta in seguito ad una lesione post-natale I principali quadri patologici invece comprendono la fasia, la disartria, i disturbi cognitivo-comunicativi e le demenze Le cause possono essere varie, può essere ad esempio un ictus oppure un trauma cranico Oppure anche le problematiche, le malattie neurologiche degenerative Quali la SLA, la sclerosi multipla, le demenze Oppure anche, non so, un tumore cerebrale ma anche i meningiti Quindi a seconda della causa e a seconda della lesione che avviene a livello cerebrale Si possono avere conseguenze diverse Quello di cui ci occupiamo noi particolarmente è la parte comunicativa e linguistica Qual è invece l'obiettivo di questa giornata? L'obiettivo della giornata è proprio di diffondere informazioni per tutta la popolazione E per gli utenti anche su quelle che sono questi tipi di problematiche e chi se ne occupa Quindi diffondiamo degli opuscoli che abbiamo prodotto anche noi come regione Nelle farmacie, negli ospedali, negli ambulatori vari E oltretutto dei numeri di telefono ai quali rispondono per ben sei giorni Dei logopedisti preparati proprio su questo settore Ma si possono fare domande diverse anche di altro genere Non soltanto riguardando la problematica di cui discutiamo quest'anno Che sono le problematiche comunicative e linguistiche nelle cerebrose lesioni acquisite Ma anche altri tipi di problematiche che noi trattiamo C'è anche un numero verde nazionale? Sì, c'è un numero verde nazionale che risponde dal 3 al 13 marzo Dalle ore 10 alle ore 12 Il numero è 049-8647936 E poi dopo rispondono dal nazionale Ma che poi dopo trasmettono le stesse telefonate ai nostri numeri regionali In occasione dell'8 marzo invece a Fano sono state organizzate diverse iniziative dedicate alle donne e non solo Saranno due le iniziative organizzate dal comune di Fano per la festa della donna Celebrata l'8 marzo Le hanno illustrate ieri in municipio l'assessore alle pari opportunità Marina Barnesi E la capogruppo consigliare di Sinistra Unita Carla Luzzi E rappresentanza della conferenza permanente delle donne elette Di cui fanno parte tutte le componenti di maggioranza e di minoranza del Consiglio Comunale Gli eventi organizzati in collaborazione con Sonia Battistini Coordinatrice dell'Ambito Territoriale e Sociale 6 Rientrano nel cartellone Dialogo tra le donne del nostro tempo Che ha preso il via lo scorso novembre in occasione della giornata contro la violenza sulle donne Il primo appuntamento è previsto per domani alle 17.30 nella Sala della Concordia del Comune L'incontro intitolato Donne in Sicurezza, la lotta al crimine parte da noi stesse Vedrà la partecipazione della dirigente della divisione anticrimine della questura di Pesero e Urbino Natalina Baiocchi Inoltre l'avvocato Francesca Santorelli del Centro Antiviolenza Provinciale parla con noi E saranno presenti le psicologhe Gloria Battistelli e Valeria Tinti Rispettivamente dell'Associazione Cante di Montevecchio e AMA di Ancona Roberta Biaggiarelli e Frida Neri invece daranno il loro contributo letterario e artistico con intermezzi musicali Un tentativo proprio di capire meglio che cosa possiamo fare per migliorare la qualità della vita delle donne Nella nostra città e questo significa occuparsi anche di quelli che sono i servizi Rivolte alle donne ma rivolte soprattutto alle famiglie, rivolte ai figli Cercando di capire anche quali sono i servizi per la salute e anche la sicurezza delle donne Perché sicuramente è molto importante per muoversi e fare delle attività anche per il tempo libero Uscire alla sera che la città sia una città sicura Domenica 8 marzo invece la cittadinanza è invitata a partecipare a Noi pedaliamo come ci pare sulle strade delle donne per dire basta alla violenza di genere L'appuntamento sarà alle 9.30 nel cortile del comune dove si partirà per una biciclettata Verranno attraversate diverse vie della città fino ad arrivare alle più significative Come quella dedicata alla partigiana Le Dantinori e alla via intestata dalla precedente amministrazione A Norma Cossetto, vittima della violenza delle foibe La meta finale invece sarà il parco dell'aeroporto dove verrà consegnato riconoscimento alla presidente del comitato Bartolagi Anna Tonelli Una donna che per anni si è impegnata per rivendicare un parco a favore di tutta la città Ci sarà anche un momento conviviale perché le donne che verranno con noi alla pedalata sulle strade delle donne Potranno portare con sé qualcosa da mangiare e poi da codividere insieme Al parco ci saranno pronti dei tavoli con delle tovaglie, con delle bibite, con dei fiori Per raccogliere tutte queste donne, ma io dico anche tutti questi uomini Che vorranno venire con noi a conoscere la storia delle donne A iniziare a conoscere la storia delle donne Alla Memo, al pomeriggio, ci saranno come sempre le letture di Nati per Leggere A cura delle lettrici e dei lettori volontari E per l'8 marzo le letture saranno dedicate alle storie piccine per bambini e per bambini Però saranno storie soprattutto contro gli stereotipi di genere Grande successo per due scuole di danza afanesi che si sono distinte in diversi concorsi Una è la New Latin Academy che con circa 40 ballerini Nel fine settimana scorso ha partecipato al sesto trofeo danza in fiera a Firenze Il gruppo delle coreografi Thunder 11 e Modern Under 15 sono arrivati secondi Mentre i gruppi di Pop Under 21 e Modern Over 16 hanno conquistato una medaglia d'oro Invece un gruppo di danzatori della scuola Capogiro Dance & Theater Domenica scorsa si è distinto alla quarta edizione del concorso internazionale di danza Maria Tot a Firenze I ragazzi valutati da una giuria internazionale si sono guadagnati due primi posti assoluti E due secondi posti nelle categorie di danza contemporanea Inoltre due ragazzi hanno vinto una borsa di studio Per quanto riguarda il gruppo di Pop nonostante sia stato creato solo qualche mese fa Si è meritato un importante secondo posto nella categoria street dance E questa era l'ultima notizia Fra poco trasmetteremo una nuova puntata di Dopocena Condotta da Lino Balestra Nella quale Stefano Fucili ricorderà l'artista Lucio Dalla per la ricorrenza del 4 marzo Dopo invece andrà in onda uno speciale televisivo in cui si parlerà di territorio come biodiversità zootecnica Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata